Buongiorno a voi, oggi è lunedì 8 aprile e mi permettete che in questo video e nei prossimi giorni il nostro breve pensiero lo prendiamo dalla via crucis, cioè dal cammino che Gesù ha fatto verso il Calvario. Il primo momento della via crucis è la condanna a morte. Pilato condanna Gesù pur credendolo e vedendolo innocente e vi li ha accopilato. Va contro il diritto umano, il diritto sociale, il diritto romano che era invece molto equilibrato. Gesù viene condannato ingiustamente. La domanda semplice che noi ci facciamo non condanniamo anche noi spesso gli altri, li guardiamo soltanto dall'esterno gli altri e diamo giudizi senza conoscere la loro anima, senza conoscere le loro intenzioni. Non giudichiamo mai, non giudicate, ha detto Gesù, se non volete essere giudicati. Buona giornata.